Il Napoli di Maurizio Sarri è una frase che rende indissolubile questo rapporto, soprattutto da quando è diventato postumo, da quando il tecnico e De Laurenti si sono separati nel 2018. Fateci caso, il Napoli verrà poi allenato da Ancelotti, da Gattuso e ora da Spalletti. E il loro primo giorno in azzurro è sempre costato contraddistinto da una domanda. Rivedremo con loro il Napoli di Maurizio Sarri? La risposta è sempre stata negativa, no. Stesso discorso, inverso per il tecnico, che dopo aver abbandonato il San Paolo è andato a Stamford Bridge ad allenare il Chelsea, ha pure vinto un'Europa League. È andato allo Stadium, ha vinto l'ultimo scudetto della Juventus e ora siede sulla panchina bianco-celeste dell'Olimpico di Roma. E anche qui la domanda scontata, rivedremo Maurizio Sarri creare ancora una volta quella giostra che è stato il suo Napoli in queste altre squadre? E la risposta è sempre stata no. È un rapporto indescrivibile, è un rapporto irripetibile, è un rapporto irreplicabile. Quei tre anni rimangono quasi fine a se stesse per bellezza. Tre anni che non hanno portato trofei ma rimangono scolpiti nella pietra del nostro calcio. Un rapporto che inizia nell'estate del 2015 quando De Laurentiis, dopo aver internazionalizzato la sua squadra con l'arrivo di Rafa Benitez nel 2013, decide di fare un passo indietro per farne due avanti, ingaggiando un tecnico che a più di 50 anni ha allenato un solo anno in Serie A, Maurizio Sarri. Arriva in quell'estate e c'è subito da risolvere una grana. La stella polare della squadra Gonzalo Higuain ha chiesto l'accessione. Insieme al fratello si stanno offrendo a mezza Europa. Il primo giorno di ritiro l'argentino va da Sarri per comunicare anche a lui la sua voglia di andarsene. È un colloquio che dura sì e no un'ora, dal quale Higuain nasce quasi rinato dalla voglia di Napoli e del Napoli di Maurizio Sarri. Chiama il fratello e dice che non se ne fa più niente, rimaniamo al San Paolo, rilanciamo. Il Napoli ha perso la Champions League l'ultima giornata della stagione precedente contro la Lazio di Stefano Pioli. È un Napoli che si ridisegna con il ritorno al San Paolo dopo un anno del dodicesimo a Noiari del Bayern Monaco di Pepe Reina in porta. A destra gioca Yuzai, giovanito e l'albanese fedelissimo di Sarri all'Empoli. I centrali sono Raul Albiol, spagnolo voluto da Benitez, Dexera al Madrid e Calidu Kulibali, arrivato sei mesi prima al Genk senza troppa fortuna per ora in Italia. A sinistra gioca Goulam, lui è arrivato nel gennaio di quell'anno dal Saint-Etienne. Il perno di centrocampo se lo giocano Valdifiori, fedelissimo del tecnico Giorginio, giovane italo-brasiliano, ex-Elas Verona. Le mezzali sono Alain, colpo estivo dall'Udinese e il capitano Mare Kamsik. Qui il primo equivoco perché Sarri si presenta perdendo la prima di campionato a Reggio Emilia col Sassuolo col 4-3-1-2. L'uno è Lorenzi Insigne che però è esploso con il Pescara di Zeeman alto a sinistra, davanti Mertens e Higuain. Le cose non vanno gran che bene fino a che in una partita d'Europa League Sarri sperimenta il 4-3-3, sostituendo Mertens con Calleon che va a giocare alto a destra. Insigne che è una combinazione, una simbiosi fantastica con lo spagnolo a sinistra, tutto gira attorno al re sole. Gonzali Higuain chiuderà la stagione con 36 gol con una rete indimenticabile, rovesciata al Frosinone a sanciere il record e a convincere, se ce ne fosse bisogno però, la Juventus a spendere 90 milioni, esercitare la clausola del rescistore e fare lui l'uomo del rilancio all'assalto della Champions League. È un colpo durissimo per il club della città. Gonzali Higuain, il figlio di Napoli, che se ne va a giocare nella cerima del rivale, la Juventus. Per sostituirlo si decide di puntare su una giovane polacco scuola Ajax, Arkadius Milik. Ma i troppi infortuni del polacco fanno, sembra un po' radosso dirlo, la fortuna del Napoli. Perché il sostituto naturale e rosa sarebbe Pavoletti, che però non troppo si sposa con l'idea di Sarri. Allora da qui la genialata nel dicembre del 2016 del tecnico toscano, che sarà la pietra miliare su cui si poseranno le fortune del Napoli e lo spettacolo da lì in avanti. Driss al secolo Ciro, Mertens, Falso Nueve, la versione italiana di quello che è stato il fulcro del calcio spagnolo degli anni precedenti. Calleon, Mertens in signe, una giostra senza senso. L'avventura del Napoli di Maurizio Sarri andrà avanti da lì in poi con questo schema. Calleon, Mertens in signe sfioreranno lo scudetto. Il Napoli ha fatto incetta di Coppa e Supercoppa prima e dopo Sarri. Sarri non ha alzato nemmeno un trofeo. È andato vicinissimo però a vincere lo scudetto del 2018. In primavera ha vinto lo scontro diretto contro la Juventus di Max Allegri con un gol di Coulibaly allo scadere. È arrivata a meno uno, quattro giornate del termine prima del doppio scontro diretto. Il Napoli deve fare bottino pieno la domenica pomeriggio al Franchi di Firenze contro la Fiorentina. La Juventus va a giocare a San Siro contro l'Inter di Luciano Spalletti che vola lanciata verso la Champions League. A sei minuti del termine l'Inter è in vantaggio 2-1 sotto di un uomo. Il Napoli vincendo il giorno dopo scavalcherebbe a quattro partite del termine la Juventus e vedrebbe in maniera concreta come mai lo scudetto, lo scudetto di Maurizio Sarri. Poi il resto è storia. La rimonta juventina firmata e rifata proprio da lui, Gonzalo Higuain, che intanto è diventato idolo in bianco-nero. Il giorno dopo Maurizio Sarri dirà dopo la sconfitta 3-0 contro la Fiorentina che il Napoli lo scudetto l'ha perso in albergo. Nel calcio italiano e nel calcio in generale si ricorda per sempre di chi vince i trofei, di chi vince gli scudetti. In questo caso ci ricorderemo per sempre anche di chi lo scudetto l'ha perso in albergo.